buon pomeriggio a tutti cari amici ebbene stavo guardando qualche notizia quella su adabda blu e mi sono accorto che la federazione ha già emanato le anticipazioni per la puntata del 14 febbraio 2020 quindi di domani dove al momento ovviamente come piattoforte come si vede anche dall'immagine copertina del video ci sarà la sfida titolata con impatto la cintura femminile dello show blu tra belli e la bellissima bionda carmella poi ci sarà questo favoloso incontro amoroso tra otis e mandy rose appunto incontro di san valentino e l'altro punto della puntata è cosa ci sarà di nuovo tra roman reigns e king corbin visto proprio che il big dog roman reigns annunciato sette giorni fa che i due si affronteranno nella gabbia d'acciaio il 27 febbraio in arabia saudita in qual di super showdown a riad ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.